Non una gara semplice per i padroni di casa che privi di Selva Allegra hanno l'urgenza di confezionare punti validi per la graduatoria e per i rosso-blu chiamati a dare una ulteriore dimostrazione di forza su un campo difficile e mai scontato. Prima frazione di gioco di assoluto ritmo e velocità, l'Aquila prende subito il pallino del gioco ma si fa sorprendere da un intervento in area di Mantini su Colecchia che l'assistente Mascitelli segnala al direttore di gara. Per lui è penalti e di Camillo dal dischetto trasforma. La reazione rosso-blu e furente corticchia in sette minuti diventa il terminale più pericoloso degli ospiti che cerca il bersaglio. Lo spoltore dal canto suo si fa vedere quando può come al ventitresimo quando conclude prima con un tiro a giro di planamente e il sul prosegue con Pontillo. Due minuti dopo prova in modo poco convinto anche Colecchia. Al minuto 28 Tavoni va via indisturbato sulla sinistra e da lungo linea beffa il fino ad allora attento Palena che vede il pallone finire sul palo e poi nel sacco. Uno a uno, finale di assoluta marca rosso-blu. Prima il muro di Palena su Marchionni e poi è la volta di Massetti che prova rasoterra di prima intenzione. Si chiude il tempo ma non la ferocia con la quale l'Aquila compie la rimonta dopo 35 secondi dall'inizio della ripresa. Marchionni in campo a sinistra per cercare Sciba che addomestica la sfera e se la cucina per il gol del sorpasso. Due a uno. La reazione azulgrana sui piedi di Buonafortuna da 25 metri precede la traversa di Carbonelli che avrebbe messo in ghiaccio il risultato. Al diciottesimo un angolo dei locali poteva avere diversa sorte se Terrenzio non avesse tolto con il debole colpo di testa la sfera che si apprestava ad essere colpita dalla forbice mancata di Di Camillo. Girandola di cambi si ridosano le forze sebbene la manovra non cambia semmai da notare il primo tocco all'indietro dell'Aquila dopo 60 minuti di gioco sintomatico di come la banda di Epifani abbia suonato di prima ed in una sola direzione e senza nessun intento speculatorio. Al trentaseesimo brivido lungo la schiena dei numerosi tifosi ospiti piazzato di planamente per Terrenzio. Sfera sui piedi di Buonafortuna che viene fermato dal muro di Mascolo. Sul fronte opposto al trentanovesimo Jonathan Alessandro a sinistra viene bloccato dall'ottimo tempismo di Palena. La gara sempre viva e tale rimane sino al quinto minuto di recupero che assegna all'Aquila i tre punti ed un più otto sulle inseguitrici che comincia ad essere un vantaggio più che significativo. Sì, l'avevamo preparata bene in settimana, sapevamo delle loro immense qualità e i ragazzi hanno seguito la lettra a ciò che avevamo provato e con un pizzico di fortuna in più potevamo portare a casa il punto però mi tengo stretta alla prestazione. Sì, poi ovviamente la differenza fisica che c'è tra noi e loro perché loro diciamo che si allenano praticamente da professionisti noi siamo una squadra dilettante dal vero punto di vista della parola però mi è piaciuta la voglia di non mollare fino alla fine della mia squadra. Loro potevano chiudere la partita e al tempo stesso noi, come ho detto prima con un pizzico di fortuna, potevamo anche trovare il 2-2 e portarci a casa a questo punto che faceva morale e muoveva la classifica però vabbè noi continuiamo, ci sono ancora un po' di partite per tirarci fuori da lì sotto. Un po' di timore riverenziale all'inizio, avete trovato il gol addirittura prima del pari avete fatto anche una doppia occasione comunque una buona prestazione contro un'armata come l'Aquila insomma è difficilissimo mister. Contro un'armata si è detto benissimo che fisicamente non solo, tecnicamente proprio non vi fa giocare, non fa giocare nessuno. Sì, ne abbiamo parlato a fine primo tempo nello spogliatoio io in primis ma anche tanti ragazzi abbiamo accusato la loro fisicità il loro diverso cambio di passo rispetto a noi ma è normale così, era strano il contrario che in mezzo al campo non si vedesse ciò però abbiamo tenuto penso il campo bene fino alla fine però onore a loro che meritatamente penso che vinceranno questo campionato. Onore allo spoltore che comunque non si è mai spaventato e ha messo in mostra quello che sta facendo di buono questo territorio giovanile con i suoi giovani. Sì, questo è un discorso che stiamo portando avanti da un paio d'anni oramai non è semplice, non è semplice perché i giovani bisogna prenderli con le pinze come si suol dire perché ci sono i pro e i contro ovviamente da un punto di vista mentale non è semplice lavorare con loro perché comunque ti devi aspettare alti e bassi nell'arco dell'annata però l'anno scorso abbiamo dimostrato che fino alla fine non abbiamo mollato e ci siamo conquistati quella salvezza meritata quest'anno non molleremo fino alla fine poi il campo deciderà cosa è giusto per noi. Allora mister una grande prova di forza, di carattere una gara che si era messa male ma poi è stata recuperata con grande maestria il gol del pari, il gol subito nelle riprese è controllata benissimo Sì sì oggi veramente sono contento e faccio i complimenti alla squadra perché abbiamo dato una dimostrazione di forza importante contro una squadra che sapevo che era migliorata sapevo che stava facendo bene specialmente in casa in questo campo sono forti e noi l'abbiamo ribaltata con grande umiltà con grande determinazione, con grande cattiveria di portare a casa un risultato importante che per noi oggi era importantissimo e andare sotto dopo pochissimo sul rigore alquanto dubbio ci poteva distogliere un po' la testa, ci poteva far cambiare l'inersia della gara invece i ragazzi si sono ripresi a giocare l'unico appunto che io gli posso fare è che nel momento abbiamo messo foca nel cercare di ribaltare o pareggiare subito il risultato ci siamo un pochettino allungati, abbiamo dato due o tre contropiedi che non gli dovevamo dare però poi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare una grande partita, abbiamo fatto occasione da gol abbiamo preso traverse, abbiamo vinto una partita importantissima per questo campionato La ferocia che avesse messo in questa gara una palla all'indietro solo al sessantesimo mai fatto prima di allora? Sì sì ma perché in questo momento la squadra sta andando molto bene in avanti gioca con grande umiltà, con grande determinazione di portare a casa i più punti possibili e quindi vincere le partite adesso iniziano a mancare meno partite e sicuramente dobbiamo vincere ancora tante partite per vincere questo campionato ma sicuramente la strada è questa giusta Guarda io vi dico sempre la stessa cosa non ero preoccupato quando era un punto, noi continuiamo sempre sulla nostra strada sicuramente siamo contenti perché sarebbe bugiato a dire che siamo a otto punti di vantaggio però credo che mancano ancora nove partite e quindi mancano 27 punti dobbiamo fare ancora tante battaglie, dobbiamo vincere le più partite possibili abbiamo questo vantaggio sicuramente importante però non dobbiamo ragionare come se Giulianova e Langolana stanno un punto dietro di noi quindi dobbiamo avere ancora umiltà, cattiveria e determinazione ed è il motto che c'è questa squadra perché ho dei ragazzi veramente straordinari lavoriamo bene dall'inizio dell'anno ho visto oggi l'attaccamento e la voglia di riportare a casa il risultato perché per noi oggi era una partita importante grazie grazie grazie